sabato 18 giugno 2022 siamo nel bosco abbiamo appena finito il giro abbiamo trovato qualche finferlo e qui sul sentiero ci stava aspettando questo questo porcino colpito dal vento caldo ovviamente questo qui molto probabilmente era già qua da un po però comunque andiamo a cavarlo e vediamo se riusciamo a utilizzarlo da qualche parte prima di cavarlo vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un bel like e passare dal link in descrizione maverino.com adesso direi di andare alla cavatura vediamo com'è non è fantastico ovviamente qui da un po' infatti guardate com'è però questo lo prendiamo come un aggiornamento dal bosco vi dico che siamo ancora indietro qui se non piove se non piove è dura saluto a tutti comunque un saluto a tutti